Ciao investitore e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti parlerò del mio nuovo pack su Bitcoin. A breve ti dirò esattamente quanto investirò, ogni quanto tempo investirò, per quanto tempo poi andrò ad investire e quale piattaforma andrò ad utilizzare per effettuare questi versamenti o comunque questi acquisti di Bitcoin. Ho parlato già tantissime volte in questo canale dell'importanza di iniziare un pack, soprattutto per i giovani. Pack è l'acronimo di piano di accumulo capitale. Con il pack in sostanza si entra in maniera graduale in un determinato investimento. Il pack è utile perché permette di crearsi un buon capitale nel tempo, soprattutto per chi non dispone già di un buon capitale da parte per iniziare ad investire ed inoltre perché riesce ad eliminare il market timing, ossia la volontà di ricercare di entrare nei minimi e di uscire ai massimi di mercato. Infine riesce a mitigare la volatilità dei vari asset sottostanti dei quali si va a effettuare poi un pack. Nel nostro caso Bitcoin è un asset estremamente estremamente volatile, quindi un pack effettuato su Bitcoin è una buonissima idea. Questo argomento è stato trattato più e più volte in questo canale e ti lascio magari qua sopra in alto nella scheda vari video dove puoi andare ad approfondire che cos'è magari un pack nella versione classica DCA oppure anche in alcune varianti come il WA. So bene che in passato ho detto che non avrei mai più acquistato Bitcoin perché la considero e la riconosco la mia valuta ufficiale di riferimento e anche perché devo andare a diversificare il mio capitale, sono già parecchio esposto in Bitcoin, ma questo qua sarà un esperimento che voglio portare qua nel mio canale YouTube. Con il tempo andremo a monitorare l'evoluzione di questo pack, quindi a scadenza andremo a vedere effettivamente se è convenuto o meno fare un pack su Bitcoin, magari rispetto anche ad un pick, cioè entrare in un'unica soluzione sull'asset sottostante, nel nostro caso su Bitcoin. Quindi vi terrò aggiornati su questo esperimento. Non si tratta di invito o consiglio di investimento ma per chi mi voglia seguire e imbarcarsi tra virgolette con me in questa avventura lascio qua sotto in descrizione e anche nei commenti un link per registrarsi alla piattaforma che utilizzerò per automatizzare il mio pack. Questo link permette di ricevere subito uno sconto incredibile perché si sta parlando di uno sconto del 50% delle commissioni di trading su coppie di scambio contro euro per il primo mese di operatività. Questa promo è valida solo per 6 mesi da quando rilascerò questo video per cui ti consiglio di utilizzarla il prima possibile. Inoltre consiglio di seguire questo video dall'inizio fino alla fine perché sarà anche un tutorial passo passo. Prima di iniziare voglio farti vedere come sono andati pack su bitcoin da 4 anni a questa parte, ossia quando più o meno ho iniziato io ad avvicinarmi a bitcoin. Chi avesse investito 50 dollari a settimana, qui si ragiona in dollari, e fosse partito 4 anni fa e avesse lasciato correre il pack per 4 anni a fila avrebbe investito in totale 10.450 dollari e ora se ne ritroverebbe 45.418. quindi avrebbe realizzato una performance del più 334,63% che non è proprio male. Proviamo a fare lo stesso per un solo anno di pack quindi un anno di pack con partenza a questo punto un anno fa. Si sarebbero investiti 2.650 dollari ed ora se ne avrebbero 5.691 quindi un aumento del più 114,75%. Ora la piattaforma che utilizzerò per questo piano di accumulo è The Rock Trading exchange con sede in Italia ed è l'exchange più longevo in assoluto nel mercato delle criptovalute. Da poco ha introdotto la funzionalità di automatizzare il pack su bitcoin e anche su altre criptovalute. Una volta che ci si è registrati e verificati in questa piattaforma per automatizzare il pack bisognerà andare intanto su Fastlane qui e cliccare su attiva un piano di accumulo. Come puoi notare io ho già depositato tramite bonifico 1000€. Per depositare è necessario andare su portafoglio da qua e seguire alla lettera queste indicazioni. Quindi se utilizzi un conto corrente italiano devi fare un bonifico verso l'Iban italiano che praticamente è questo qua con beneficiario The Rock Trading SRL senza dimenticare di inserire questo codice nella causale. Questo è molto importante quindi non dimenticarlo. Ma torniamo a noi. Io ho scelto di effettuare un pack con cadenza settimanale su bitcoin perché in realtà qui si potrebbero scegliere più criptovalute come magari Ethereum, Ripple, Litecoin eccetera eccetera eccetera. Però io ho scelto di effettuarlo su bitcoin. L'importo settimanale in euro sarà quindi di 50€ quindi in totale 200€ al mese. È una cifra fattibile secondo me quasi per tutti. Questo pack lo porterò avanti per almeno 3 anni. Mi riserverò la possibilità di bloccarlo in ogni caso se dovesse ritornare un'euforia estrema su bitcoin come è successo nel 2017. Quindi all'anno investirò 2400€ e ne caricherò in questa piattaforma 1000€ a volta per comodità. Ogni versamento tramite pack, quindi ogni versamento nel mio caso settimanale mi verrà dedotto dalla cifra che puoi vedere qua in euro che ho depositato presso questo exchange. Quindi ogni tanto cosa dovrò fare? Dovrò rifocillare questo saldo con un bonifico, nel mio caso da 1000€. Il costo per effettuare il pack in maniera automatizzata è dell'1,49% come puoi notare da qua ed ogni 200-400€ in bitcoin acquistati li sposterò poi in un mio wallet personale. Non è necessario spuntare questa casella. Se non la spunti dovrai poi bloccare te il pack quando lo riterrai opportuno. E se non la spunti il pack partirà da subito. Quindi più avanti dovrai essere te manualmente anche a bloccare, ripeto, il pack quando lo riterrai opportuno. Altrimenti puoi anche programmare, cliccando da qua, la data di inizio del tuo piano di accumulo capitale e la data di fine per questo pack. Non è necessario in realtà inserirle entrambe. Si può decidere di ritardare l'avvio del piano ma lasciarlo attivo a tempo indeterminato. Quindi in questo caso potrai far partire il piano magari 05-12-2020 e lasciarlo a tempo indeterminato se non metto una data di termine. Oppure posso impostare solo la data di termine, oltre la quale non verranno effettuati più acquisti per questo piano di accumulo. Io personalmente non spunterò questa casella, quindi attiverò da subito il piano e sarò io manualmente a stopparlo quando sarà il momento. Quindi ricapitoliamo, piano di acquisto settimanale 50€ a settimana, quindi sarebbero 200€ al mese per 3 anni e non clicco questa spunta, quindi vado a fare nuovo piano di accumulo. Qui devo andare ad inserire una descrizione per questo piano, magari per evitare di confondermelo con altri piani di accumulo che magari potrei fare in futuro. Io personalmente questo piano di accumulo, per riconoscerlo, lo chiamerò Angeloni Bitcoin. E magari per chi mi vuole seguire in questa avventura, in questa esperienza, può anche segnare nella descrizione Angeloni BTC. Qui c'è un riepilogo, vedete che ci indica un ordine di 50€ in Bitcoin ogni 7 giorni, data di inizio il 3-12-2020, quindi da domani parte questo piano e commissioni sono l'1,49% in euro. Quindi vado a dare conferma da qua. Qui c'è di nuovo un riepilogo, vedete che non ho inserito la data di termine, la data di scadenza, lo farò poi manualmente e quando voglio sospendere questo piano andrò praticamente qua su ordini, piani di accumulo e poi vado a cliccare su sospendi. Perché porto proprio ora un pack su Bitcoin nel mio canale? Intanto, come potrai ben immaginare, perché credo nell'apprezzamento di valore di questo asset nel tempo, a fronte chiaramente di un'enorme ed estrema volatilità. Inoltre perché questo qua è proprio il miglior momento possibile per iniziare un pack su Bitcoin. Il miglior momento per iniziare un pack accademicamente è riconosciuto come sempre, ossia accademicamente dicono è sempre un buon momento per iniziare un piano di accumulo capitale. Ma io ti posso dire invece che questa affermazione accademica non è del tutto vera, ossia il miglior momento per iniziare un pack è quando i mercati sono ai massimi. E nel nostro caso Bitcoin attualmente è quasi al massimo storico, è un momento molto volatile. Quando sto registrando questo video non è proprio al massimo storico, ma poco ci manca. Entrare ora su Bitcoin in un'unica soluzione puoi comprendere facilmente che è abbastanza rischioso in questo momento quando i mercati sono al massimo. Per cui è una buona idea iniziare ad accumulare Bitcoin tramite un piano di accumulo, cioè entrate graduali a mercato. Questo qua è un momento davvero davvero incredibile per un pack, perché pure se il valore di Bitcoin, il prezzo di Bitcoin dovesse scendere temporaneamente e chi effettua un pack dovrebbe augurarselo, con il pack riesci a mediare il prezzo, cioè riesci con i versamenti mensili ad accumulare nel nostro caso quote, o meglio nel nostro caso più satoshi, man mano che il mercato scende. E poi quando si riprende chiaramente hai una forza incredibile nel tuo capitale, perché hai più satoshi e li hai accumulati a prezzi inferiori. Quindi questo qua in realtà, vada bene, è un momento perfetto per fare un pack su Bitcoin. Con questo è tutto ragazzi, cercherò di tenervi aggiornati sull'andamento e sull'evoluzione di questo pack, anche via Twitter, che vi lascio qua sotto sempre in descrizione, il mio profilo Twitter. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se qualcuno di voi magari mi seguirà in questa avventura, ci imbarcheremo insieme in questa avventura e salperemo per mari un po' tempestosi e molto molto volatili. Con questo è tutto ragazzi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!